In attesa che arrivi il nuovo piano regolatore del porto di Catania, che segnerà una svolta senza precedenti nel rilancio dello scale etneo in termini infrastrutturali e di servizi, l'autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale non intende perdere tempo e sta avviando una serie di opere che anticiperanno in parte il futuro disegno. Per iniziare entro la fine dell'anno sarà indetta una gara per l'importo di circa 6,5 milioni di euro finalizzata al rifacimento ex novo del barco sud, principale porta d'ingresso dell'area portuale e unica per le aree commerciali. Il presidente Francesco Di Sarcina afferma, come più volte annunciato, Il nostro intento è migliorare il rapporto tra città e porto che deve essere aperto e rivolto ad essa e non darle le spalle, ma questo obiettivo si deve conseguire attraverso iniziative sinergiche con le attività svolte all'interno e in un mosaico complessivo che non penalizzi il grande valore economico che riveste il porto commerciale. Grande attenzione al profilo ambientale con l'utilizzo di materiali con criteri ambientali minimi all'impianto fotovoltaico collocato nella pensilina di circa 500 metri quadri che rende autosufficiente la struttura sottostante e quello di trattamento e accumulo delle acque piovane. Il progetto include il rifacimento del manto stradale per circa 15.000 metri quadri di asfalto che verrà realizzato utilizzando una miscela utile a conferire al tappetino di usura maggiore resistenza e durabilità e quindi minori interventi di manutenzione. Due grandi careggiate stradali con tre corsie l'una per una migliore gestione delle operazioni di controllo in ingresso uscita. Un'area di 200 metri quadri per accogliere veicoli in entrata e in uscita contro gli addetti ai lavori. Sarà rinnovata l'illuminazione al fine di conciliare esigenze funzionali legate alla viabilità e artistiche così da valorizzare l'imponente arco.